Ciao ragazzi, facciamo un punto della situazione sulla classificazione delle consonanti che vi può essere utile anche per la verifica di domani. Le consonanti vanno classificate in base al tipo in semplici e doppie. Per comodità parto dalle doppie che sono z, xi e psi. Queste sono doppie perché sono formate da doppia consonante, quindi nel caso della z noi pensiamo solitamente a un gruppo delta più sigma oppure delta più jod, ma anche gamma più jod può dare esito z. La xi invece è sicuramente una gutturale a cui si unisce il sigma e la psi è sicuramente una labiale a cui si unisce il sigma. Un altro criterio di classificazione è quello della qualità o durata del suono. In questo caso noi abbiamo due macro gruppi, quello delle mute anche dette occlusive, esplosive o momentanee in cui il suono viene ottenuto attraverso un rapido rilascio del flusso d'aria che è stato bloccato o a livello della gola o a livello delle labbra o a livello dei denti. Infatti poi in base all'organo fonatorio interessato vediamo che c'è un'altra suddivisione. Poi ci sono invece le spiranti o continue la cui emissione del suono è prolungata e questi si suddividono in liquide, nasali o sibilanti. Andiamo più nello specifico, vediamo le mute occlusive. Possono essere classificate in base al luogo di articolazione anche detto organo fonatorio. Quindi se l'organo fonatorio prevalente sono le labbra noi avremo delle labiali, se è la gola avremo delle gutturali, se sono i denti avremo delle dentali. Le labiali nello specifico sono P, beta e phi, le gutturali K, gamma e chi e le dentali tau, delta, teta. L'ordine in cui io le ho pronunciate corrisponde a un'altra suddivisione che è quella relativa al grado di intensità dell'emissione della voce. In questo caso noi abbiamo infatti consonanti sorde, nello specifico la P, la K e la tau, medie, beta, gamma e delta e sonore, dette anche comunque aspirate perché abbiamo visto che nel trascriverle in carattere di latini dobbiamo sempre accompagnarle con il suono H e queste sono phi, chi e theta. Passando alle continue ospiranti vediamo che dobbiamo pensare al modo di articolazione e le classificheremo in nasali, sibilanti o liquide, nello specifico nasali, mi, ni e la gamma che è la nasale di fronte alle gutturali, sibilante sigma, nelle due grafie come vedete in tabella, quella interna di parole e quella finale, e liquide lambda e ro. Queste consonanti continue ospiranti possono essere suddivise anche in base al luogo di articolazione, ma questa suddivisione è secondaria. Vediamo in ogni caso che per le nasali può essere interessante e di aiuto perché corrisponde diciamo a dei criteri ecografici, quindi il luogo di articolazione delle nasali può essere labiale nel caso della M, culturale nel caso della gamma di fronte a un'altra culturale, dentale nel caso della N. l'esibilante e le liquide noi le classifichiamo come dentali, quindi il luogo di articolazione, l'organo fonatorio più interessato nell'emissione di questo suono appunto sono i denti. Adesso mettiti alla prova e completa la tabella.